San Giorgio Ma noi siamo nati un po' per gioco tre anni fa, quattro, quattro anni fa, ci siamo conosciuti io e che è il Matt D'Alioscia e avevamo messo in piedi questa cosa di acqua ramata, adesso in questo momento insomma siamo, si può dire, arenati? Dicevo siamo in altre faccende affaccendatiche, ormai è un annetto che siamo un po' arrugginiti perché non suoniamo più dal vivo, adesso ne rinda il morto, stasera vedo un po' che rientira. Allora riprendete dai pian piano con questa serata e poi ripartite. Ma prima guarda abbiamo fatto il soundcheck, cinque minuti, siamo partiti subito forte quindi la paura non ce la venghi insomma. Eh no dai nel sangue la bravura. È come giocare a bigliardino e fa subito i gol. È come in bicicletta? Sì, sì. Va bene, vi ringrazio. Non vuoi parlare? Non è sorridente, è giusto? Cosa suoni? Il basso. Tu? I campanei. Campanei, tu? Io suono lo scatoletto, col tonne e tutto dentro. Allora vediamo l'ora di vedervi, grazie. Prego. Ciao. Ciao.